Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cercuoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Madronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. 11 consiglieri presenti, quindi abbiamo il numero legale, che in seconda convocazione sono sufficienti 8, quindi possiamo aprire il consiglio. L'ultimo consiglio, eravamo rimasti nella discussione, era stato già presentato l'atto, eravamo in fase di discussione del primo punto, abbattimento in posti locali per teatri e cinema. Il dibattito non era ancora stato chiuso, quindi se ci sono interventi su questo punto, i consiglieri sono pregati di prenotarsi. Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto e poi alla votazione. Allora, ci sono richieste di interventi? No. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consiglio Laddaga, prego. Grazie Presidente, ovviamente insomma ho, presentando il testo ho già detto alcune cose a mio modo di vedere importanti e credo valga la pena di ribadire che insomma ci sembra opportuno, giusto e segno di grande sensibilità il fatto di aver cercato di porre l'attenzione su un settore che produce cultura in modo importante in città e che è in grande sofferenza e questa sofferenza porta anche poi ad una difficoltà per attività storiche. Penso ai cinema di quartiere, penso ai teatri di quartiere, penso ad alcune strutture che negli ultimi mesi e negli ultimi anni sono stati anche al centro della cronaca cittadina per vicende legate a tentativi da parte di gruppi di artisti di riportare, di mantenerle in vita e di fare in modo che proseguisse un percorso che durava da decenni. Qui insomma ci sembra importante questo segnale però a parer nostro, ripeto, forse per l'eccessiva fretta di un precipitare degli eventi nelle ultime settimane in Consiglio Comunale ci sembra che andrebbe ritarato il tutto quindi su quest'atto dobbiamo, insomma un po' a malincuore, esprimere un voto negativo, ci piacerebbe poter rilavorare in questo senso e che magari in una situazione ordinaria si cerchi di rilavorare in questa direzione ma nel rispetto della legge, quindi di quello che un comune può o non può fare e soprattutto andando ad intervenire meglio anche su una differenziazione tra impianti enormi, multisala, di catene internazionali rispetto alle piccole realtà di quartiere o di municipio. Grazie. Grazie consigliere Lattaca. Prima di procedere nomino a quadri scudatori e consiglieri Poli, Venassi e Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi sono previa comunicazione alla Presidenza. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consiglia Cerculli, prego. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, pur comprendendo lo spirito con il quale l'atto è stato presentato e in virtù dei lavori fatti in Commissione che ci hanno trovato d'accordo, Fratelli d'Italia si asserrà dalla votazione per il semplice fatto che effettivamente l'atto va rimodulato esprimendo una differenziazione tra i grandi centri di aggregazione, quindi le grandi catene e i piccoli teatri e i piccoli cinema che invece sono la parte via dei nostri quartieri. Ritenendo impossibile per il momento, e cosa che non era espressa nell'atto, una tale differenziazione ci asserremo e pensiamo che invece nella Commissione possa essere fatto un lavoro in questo senso per favorire la cultura che è sicuramente un aspetto importante soprattutto per i giovani quindi favorendo appunto teatri e cinema, ma in tal senso insomma non esprimiamo, non ci asseniamo dalla votazione. Grazie Consiglio Cerconi. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, ricordo che qui c'è, diciamo, sulla proposta di delibera c'è il parere contrario quindi votiamo chi è favorevole al parere contrario. Chi è contrario al parere contrario? Chi si astiene? Allora, dieci voti favorevoli al parere contrario, l'astenzione dei consiglieri la notte e Cerconi. Quindi il parere contrario alla proposta è approvato. Passiamo al secondo punto. Allora, che è finuto? E questo non lo devo dire finire questo emendamento, perché è andata adesso. Sì. Proposta di deliberazione per espressione parere regolamento comunale per la partecipazione attiva dei cittadini nel governo e nella cura dei beni comuni. Su questo faccio presente che è stato presentato due emendamenti. Un emendamento e un sub-emendamento. Un emendamento sub-emendamento è stato già presentato nella precedente seduta. seduta a firma dei consiglieri Cofano e Benassi, che adesso facciamo delle coppie, facciamo subire e poi ne parliamo. Allora, chi è che presenta l'atto? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri. Assessore, buongiorno. La proposta di deliberazione che oggi è all'attenzione del Consiglio segue quella che abbiamo esaminato non più tardi di un mesetto fa, analoga, presentata dal gruppo consigliare Capitolino del Movimento 5 Stelle. Questa ci perviene invece dal gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà dell'amministrazione Capitolina. Il testo attiene all'attuazione di un regolamento che è auspicato a livello del mondo associativo che supporta insomma le amministrazioni comunali nella vita di ogni giorno e già nella pregressa esposizione ebbi modo di dire che è uno dei regolamenti che è stato approvato per primo dal Comune di Bologna a cui hanno fatto seguito molti comuni, circa 40, anche se non delle grandi città, delle grandi metropoli come quella di Roma. La Commissione ha espresso parere contrario a questa proposta di deliberazione pur in presenza del parere favorevole formulato dall'Aggiunta anche se con l'assunzione dei pareri espressi dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive che hanno formulato più di una perplessità sul corpo del testo. In Commissione eravamo rimasti d'accordo con i colleghi del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà che avrebbero appunto presentato un emendamento, uno o più emendamenti insomma tendenti a riportare insomma il testo nell'alveo insomma dell'applicabilità e quindi dell'accollibilità da parte del Consiglio. La Commissione ha ritenuto in sessione congiunta con la seconda Commissione della collega Caccamo di mantenere il parere che era stato precedentemente dato non perché la materia non meriti attenzione ma perché vuoi anche l'attuale momento in cui stiamo andando è stato ritenuto non accoglibile e quindi la Commissione ha ritenuto di mantenere un coerente assenso negativo insomma rispetto alla proposta di deliberazione. Ovviamente il testo degli emendamenti sarà valutato dal Consiglio poi quindi vedremo durante la discussione se ci sono elementi per poter variare e invertire questo tipo di espressione delle commissioni e tuttavia mi sento di dire che il testo sebbene si differenzi dall'altro quindi ci sono degli elementi modificatrici, di modifica rispetto al precedente testo tendente insomma a dare maggiore dignità alle realtà territoriali ai cittadini rispetto al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale abbiamo comunque ritenuto che il momento attuale non consentisse insomma l'accoglibilità della proposta parimenti a quanto abbiamo fatto appunto come dicevo un mese fa. Grazie. Grazie Consigliere Poli apriamo la discussione intanto ho fatto fare le copie degli emendamenti che sono a disposizione qui sul tavolo quindi apriamo la discussione chi vuole intervenire Consigliere Cofano prego Grazie Presidente e Consiglieri ci accingiamo oggi a votare il regolamento comunale per la partecipazione attiva dei cittadini nel governo e nella cura dei beni comuni avevo già avuto modo di approfondire in commissione e anche di dichiarare apertamente che comunque questa delibera rientra in quel filone delle iniziative lodevoli che comunque sono state introdotte e sono state portate avanti dal vecchio Consiglio Comunale prima che decadesse allo stesso tempo ho anche apprezzato e contestato facendo anche un mea colpa come gruppo politico rispetto a quelli che erano stati i presupposti della delibera precedente che aveva sì dei caratteri che tenevano comunque delle criticità ma che comunque presentava quello stesso impianto in quella stessa sostanza che tiene oggi il regolamento che ci accingiamo appunto a votare dico questo perché oggettivamente è anche doveroso in politica laddove si reputi necessario fare ammenda su degli errori che si commettono dico questo perché oggettivamente nonostante io non è che contesti il voto precedente a quella delibera ma contesto il fatto che organicamente non è stata poi portata avanti collettivamente con il gruppo del 5 Stelle un lavoro per cui questa delibera che oggi votiamo si sarebbe potuta anche condividere insieme a loro e lo dico appunto come gruppo politico non come singolo consigliere per esprimere una vicinanza di cui non è che i consiglieri del 5 Stelle insomma vogliono la vicinanza del cofano o del gruppo Selle però insomma penso che un minimo di ragionamento su questo vada fatto allora con questa premessa è un regolamento appunto che ha un impianto lodevole ossia quello che comunque prevede delle agevolazioni di natura burocratica e fiscale per quei soggetti giuridici che dentro chiaramente un perimetro di procedura pubblica procedura di evidenza pubblica si occupi della gestione condivisa dei beni comuni e della cura del patrimonio pubblico del territorio questo regolamento va comunque a premiare quella progettualità il cui impatto produca un welfare diffuso che come ente locale è più che fondamentale un'economia di carattere collaborativo a riguardo e soprattutto che rafforza i percorsi partecipativi nel governo complessivo del territorio il regolamento proposto fa riferimento a diversi modelli che sono stati sperimentati in Italia in alcune città a partire da quello del comune di Chieri la cultura dei beni comuni a Roma sarebbe auspicabile che diventasse una vera rivoluzione per la governance urbana e a maggior ragione visto che comunque il ragionamento intorno al futuro governo di questa città ad oggi ruota solo intorno ai nomi è anche opportuno fare un ragionamento per fare sì che le forze politiche comincino a parlare anche di temi e di quelle che sono comunque il potenziale e l'idea di città che i soggetti politici vogliono portare avanti penso che questo regolamento abbia nel suo impianto queste potenzialità per cui il gruppo di SEL esprimerà un voto favorevole alla delibera per cui contrario al parere della commissione abbiamo presentato come gruppo un emendamento ma reputo Presidente che questo posso discuterlo evidentemente in seconda istanza però rispetto all'impianto del regolamento insomma questo è un po' il ragionamento del gruppo di SEL Grazie Consigliere Cofano altri interventi Consigliere Tutino, prego Grazie Presidente si tratta di un atto che esprime delle volontà politiche di tutela dei beni comuni estremamente preziose è un atto tale per cui così come io ho preso la decisione di votare favorevolmente al regolamento proposto allora dal Movimento 5 Stelle nonostante vi rilevassi diverse pecche alla stessa maniera mi sento oggi di esprimere un parere favorevole in merito a questo documento per la tutela dei beni comuni va rilevato che risulta abbastanza incomprensibile come i dipartimenti del Comune di Roma e questo è un aspetto che vorrei rilevare perché noi come consiglieri dovremmo essere aiutati dall'apparato amministrativo del Comune di Roma i dipartimenti del Comune di Roma in un caso, nel caso del primo regolamento giungessero a un certo tipo di critiche anche molto forti e nel caso del regolamento in questione che io stesso ho trovato alcuni motivi per apprezzare nel caso del regolamento in questione sono molto più lievi gli apprezzamenti che vengono fatti ecco sinceramente questo non è comprensibile che l'apparato amministrativo del Comune che dovrebbe far funzionare la città e dovrebbe aiutare la politica attraverso la scelta attraverso scienza e coscienza quindi attraverso la conoscenza delle normative non è accettabile che invece si lasci andare come è evidente in questo caso a decisioni politiche che precedono che precedono la decisione politica dei consiglieri questo lo devo rilevare perché lo ritengo un fatto abbastanza grave che da parte mia posso sanare solo con la coerenza che abbiamo fin qui mostrato ovvero continuando a votare positivamente quello che in altri momenti abbiamo votato positivamente la ringrazio Presidente grazie a lei altri interventi consigliera Carus Presidente assessori e colleghi consiglieri brevemente semplicemente una considerazione è stata valutata anche in Commissione Seconda il regolamento comunale per la partecipazione attiva dei cittadini e soprattutto ne vorrei esprimere alcune criticità nonostante considero come ho già detto anche all'interno della Commissione un passaggio positivo e sicuramente una discussione già aperta diverse volte ricordo che anche su questo territorio esistono delle convenzioni già attuate negli anni rispetto ad alcuni esercenti e quindi rispetto anche a una collaborazione tra cittadini e istituzioni e proprio su questo abbiamo trovato nel tempo anche delle difficoltà poi a gestire queste realtà proprio nel nostro municipio quindi sicuramente lo spirito come già appunto espresso un mese fa ma anche adesso è positivo secondo me va sviluppato poi anche da un punto di vista delle differenziazioni che Roma Capitale rispetto ad altri comuni e altre difficoltà può avere ovviamente proprio essendo una città di tali dimensioni e sicuramente vanno regolamentate in modo diverso rispetto ad altri centri lo spirito lo sottolineo lo considero positivo perché la partecipazione attiva è sempre un elemento che va promosso e sviluppato da parte delle istituzioni però come abbiamo già visto proprio in questi anni alla scadenza di alcune convenzioni le difficoltà poi di gestione da un punto di vista istituzionale sono differenti e quindi forse andrebbe poi nel tempo sviluppato è seguito anche politicamente purtroppo in questo momento la nostra Capitale è senza un governo politico grazie Altri interventi? Consigliere Lozzi, prego Allora, durante la discussione sul medesima proposta di regolamento presentata circa un mese fa dal Movimento 5 Stelle era ben chiaro che il regolamento non era perfetto ma perfettibile e proprio la sottoscritta aveva chiesto la possibilità di non esprimere parere e di perdere un pochino più di tempo per analizzarlo e fare delle proposte concrete da portare poi sul tavolo comunale in modo che nel momento in cui fosse redatta la stesura definitiva già dal territorio potessero arrivare delle proposte concrete a quanto pare siccome le proposte del Movimento 5 Stelle di solito vengono spesso e volentieri sottovalutate nonostante poi tutti dicano e valutino l'importanza del tema affrontato abbiamo preferito dare un parere secco e contrario poi arriva dopo un mese la proposta del Disel cambiano tre o quattro virgole qualche parola vengono aggiunte alcune cose che a parer mio vanno a peggiorare non a migliorare la precedente proposta e oggi si sta cercando di trovare l'escamotage per farlo passare con parere favorevole la cosa più critica è che si tenta di farlo passare oggi con parere favorevole quando arriverebbe poi in comune dove non c'è assolutamente una commissione composta da consiglieri né un consiglio che possa valutarlo ed integrarlo in maniera obiettiva con tutte le proposte che possano pervenire dal territorio cosa che un mese fa non era così un mese fa ci sarebbe stata la commissione ad hoc che poteva raccogliere le proposte si poteva integrare ci si poteva lavorare con i consiglieri comunali ed elaborare in un determinato modo ad oggi tornando un parere anche con osservazioni arriverebbe nella terra di nessuno dove un singolo uomo un commissario dovrebbe decidere se accogliere o meno le proposte integrarlo o meno o valutarne la perfettibilità o meno e decidere se applicarlo o meno allora io faccio una piccola riflessione probabilmente il tema è molto importante probabilmente dovremo continuare a lavorarci sul territorio fare delle proposte ma non è questo il momento di mandarlo avanti con un parere favorevole probabilmente bisognerebbe tenerlo in cantiere magari dopo le elezioni quando ci sarà un consiglio comunale che potrebbe valutarlo in maniera più approfondita magari se è l'occhi per lui o l'insieme dei gruppi politici visto che tutti ritengono questo argomento un momento importante magari portarlo in modo condiviso questo qua secondo me non è il momento politico adatto stavo leggendo gli emendamenti se ne è parlato in commissione del fatto delle agevolazioni per quanto riguarda le esenzioni in materie di cani e tributi locali per quanto riguarda le affissioni pubblicitarie e questa era una proposta che era pervenuta anche dalla presidente della commissione allora dico se l'idea era quella di dare un parere favorevole bastava aggiungere questa piccola osservazione in commissione e farlo passare con parere favorevole in commissione eravamo tutti d'accordo nel farlo passare o con parere contrario o con l'assenzione di alcuni gruppi proprio perché le modifiche apportate non lo rendevano perfettibile così come non era perfetto quello del Movimento 5 Stelle e soprattutto perché sarebbe andato ad un comune attualmente mancante della parte del consiglio cioè la parte di indirizzo e controllo che poteva apportare delle modifiche raccogliendo le osservazioni dei territori quindi secondo me la proposta oggi deve passare con parere contrario non perché l'argomento non sia lodevole ma perché merita degli approfondimenti sia da parte del territorio sia da parte del comune ma con la struttura al completo quindi con un consiglio opposizione maggioranza che possano valutarlo insieme grazie grazie a lei consigliere Lozzi altri interventi consigliere Laddaca prego grazie presidente farò un intervento breve che è anche la mia personale dichiarazione di voto perché come ho detto anche in commissione un argomento importantissimo che molti gruppi e movimenti di cittadini sollecitano da tempo qui a Roma però anch'io sono abbastanza perplesso su questa fase politica molto particolare che abbiamo in città e l'idea che un regolamento del genere che abbiamo visto avere alcuni difetti alcune lacune ed essere migliorabile per certi versi arrivi nelle mani di una persona sola che in questo momento è sindaco giunta e consiglio dove non ci sia alcun dibattito alcun apporto di forze politiche che vivono il territorio e danno i rapporti con il territorio quindi personalmente mi asterrò su questo su questo atto come farò insomma anche in futuro quando arriveranno regolamenti complessi che investono la vita e la partecipazione dei cittadini e arrivino qualora dovesse arrivare in questo momento in cui non ci potrebbe essere un dibattito democratico e rispettoso di tutte le parti in campo grazie grazie consiglio Laddaca altri interventi consigliere Esteritano sì presidente io sono arrivato un po' tardi perciò non mi sono sentito tutto l'intervento dei consiglieri precedente però penso che noi dobbiamo fare un documento tutti insieme maggioranza opposizione o solo maggioranza responsabile per fare in modo che i documenti che arrivano dei pareri del comune non vengono discussi ne parliamo alla prossima consigliatura sarebbe cosa buona e giusta che tutti noi ci rimettiamo i municipi così come stanno non funzionano non servono diamo un mandato al sindaco al prefetto e il prefetto sente il povero stelitano già non lo sentono questi detto questo il mio invito è alla presidenza all'ufficio di presidenza di preparare un documento di dire i pareri in questo momento blocchiamoli andiamo alla prossima consigliatura speriamo che si va a votare il prima possibile perché non si può pensare che i cittadini giubileo sì giubileo no dobbiamo accelerare questo metodo di lavoro non è questo il modo e io quella proposta così formulata sinceramente grazie grazie consigliere stelitano altri interventi non ci sono altri interventi allora consigliere Poli grazie grazie presidente volevo pregarla se è possibile sospendere per un minuto per un piccolo consulto del gruppo e per l'esame degli emendamenti insomma rivedere se sono accoglibili se possono modificare i lavori che abbiamo sinora seguito quindi la pregherà insomma un minuto o due minuti sono sufficienti io la richiesta del consigliere Poli va bene se ci sono opposizioni credo possiamo sospendere cinque minuti il consiglio allora il consiglio è sospeso per cinque minuti va bene allora riapriamo il consiglio non so il consigliere Poli mi aveva chiesto la sospensione prego sì presidente abbiamo effettuato questo piccolo confronto tra noi confermando il parere espresso dalle commissioni prime e seconde e quindi la contrarietà alla deliberazione e conseguentemente anche l'amendamento allora passiamo adesso alla presentazione dell'amendamento l'amendamento diciamo che è strutturato in questo modo diciamo c'è un amendamento e un sub-amendamento perché il primo dice il deliberato si chiede di sostituire la parola contrario con favorevole chiaramente se il consiglio vota favorevole si passa al sub-amendamento se il consiglio mantiene la contrarietà così come è nella proposta di delibera decata automaticamente il sub-amendamento consigliere Coffro vuole illustrare l'amendamento prego grazie presidente al di là della formalità per cui diciamo l'atto prevede un sub-amendamento proprio per giustificare quello che diceva lei presidente il fatto del parere favorevole al regolamento il nocciolo dell'emendamento ruota intorno all'articolo 30 del regolamento comunale per la partecipazione attiva dei cittadini nel governo e nella cura dei beni comuni e ricalca un po' quello che era anche l'indirizzo dato dal dipartimento dello sviluppo economico e delle attività produttive nella fattispecie l'articolo 30 dove si parla nel regolamento di esenzioni ed agevolazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari è da collegare al fatto che le attività di cui è il regolamento in questione sono di pubblico interesse diciamo in questo caso il regolamento prevede che si possano introdurre ulteriori esenzioni o agevolazioni però in tal caso occorre un'espessa previsione non un richiamo generico come è formulato perché di fatto il tema è da attribuirsi a una legge di carattere nazionale e quindi da regolamento non può essere in questo modo così formulato per questo l'emendamento lo cito come l'abbiamo elaborato è l'inserimento di un comma bis all'articolo 30 in cui si prescrive alle esposizioni pubblicitarie connesse alle attività di cui al presente regolamento si applica una tariffa ridotta del 50% per cui restringe il campo e crea che non ci siano diciamo incongruenze tra normative di carattere nazionale e regolamento specifico grazie ci sono interventi sull'emendamento se non ci sono interventi sull'emendamento scusate per favore consigliere matronola allora consigliere Cercone che vuole intervenire eh scusate prego sembra inammissibile un emendamento che modifichi le parole a contrario favorevole cioè riferita soprattutto a cosa al parere che era già stato espresso sì l'emendamento è perfettamente accettabile poi uno si esprime come retiere opportuna però l'emendamento no per capire perché è un po' di difficoltà no allora volevo capire si chiede con l'emendamento di trasformare il parere della connessione parere contrario in parere favorevole ok perfetto per capire bene eh non ci sono scusate per favore non ci sono interventi ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento non ci sono dichiarazioni di voto passiamo al voto sull'emendamento allora l'emendamento chiede di sostituire nella parte risolutiva la parola contrario con favorevole chi è favorevole all'emendamento per favore per favore va bene chi è scusate chi è contrario all'emendamento chi siamo chi si astiene il consiglio dell'Aldaca si astiene ha votato a favore al parere contrario e si è un po' sdraiato allora lei fa parte io mi sono allineato al partito democratico perciò però le segretarie devono registrare comunque allora 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 votato ma volevo la mantenere e farete il contrario allora chi si astiene avete consiglio dell'Aldaca quindi l'emendamento è bocciato quindi automaticamente decate anche il sub-emendamento adesso passiamo alle dichiarazioni di voto sulla sul parere sulla proposta di delibera ci sono dichiarazioni di voto consigliere Cofano grazie presidente per ribadire quanto espresso precedentemente visto appunto l'esito dell'emendamento il gruppo SEL voterà contrario al parere contrario alla delibera grazie grazie altre dichiarazioni di voto non ci sono passiamo alla votazione allora chi è favorevole al parere contrario chi è contrario al parere contrario chi si astiene parere contrario è approvato con 13 voti a favore 3 contrari e l'astenzione del consigliere la daca passiamo adesso all'ultimo punto dell'ordine del giorno proposta di risoluzione a venta d'oggetto promozione delle monete complementari e sviluppo locale chi è che presenta il presidente della commissione prego consigliere Poli grazie presidente la proposta di risoluzione d'iniziativa del collega Tutino è pervenuta in commissione purtroppo in uno dei giorni immediatamente successivi alla caduta del sindaco dell'assemblea capitolina la commissione che aveva già dedicato diverse sedute all'argomento invitando anche uno il cofondatore di archipelago scec che ci aveva spiegato anche gli aspetti connessi alla fiscalità di questa modalità da introdurre nel tessuto economico del municipio ed è per questo che la commissione aveva peraltro chiesto al proponente di effettuare alcune modificazioni e integrazioni al testo modificazioni che sono pervenute in commissione ma per il motivo che prima le ho detto la commissione ha ritenuto di non esprimere parere sulla proposta di risoluzione proprio perché ci trovavamo il giorno dopo al lo scioglimento dell'assemblea capitolina quindi senza peraltro nessun tipo di indicazione da parte del segretario generale che ci potesse guidare nel proseguo dei lavori municipali per questo motivo la commissione ha ritenuto di dover sospendere il parere nonostante ciò trascorsi il termine previsto dal regolamento la risoluzione così come è stata depositata viene portata all'attenzione del consiglio ripeto la commissione non ha potuto esaminare gli eventamenti che il proponente che erano stati richiesti al proponente per cui non so se poi quest'oggi ci sono non credo che lei ne abbia dato notizia per cui così restando ci accingiamo a discutere in aula però monca di questo lavoro istruttore della commissione che proprio al momento della decisione si è trovata nel decidere se proseguire o meno con i lavori adesso poi i lavori stanno riprocedendo speditamente per cui non so il proponente che cosa intende fare ma così come è formulata non credo che sia accoglibile perché le osservazioni erano già state formulate su questo testo grazie faccio presente all'aula che il consigliere Tutino ha portato l'ammendamento direttamente in aula è stato fotocopiato ci sono le coppie un ammendamento aggiuntivo nella parte risolutiva e sono le coppie sul tavolo quindi chi volesse prendere conoscenza dell'ammendamento lo può prendere allora apriamo la discussione sulla proposta consigliere Tutino prego mi avrò anche del testo che è ampiamente descrittivo di ciò che si intende realizzare attraverso quest'atto allora anzitutto partiamo dalla premessa che stiamo vivendo come società locale e globale una crisi finanziaria e non una crisi economica quindi una crisi nata in ambito bancario che giorno dopo giorno erode la il potere di spesa di tutti i cittadini ciò è anche legato e in grande parte legato al sistema oltre che finanziario al sistema monetario che ne è alla base ovvero tutto il nostro sistema di scambi e di relazioni umane è basato su monete che costituiscono nella tasca del portatore un debito e non un credito ovvero ognuno di noi più monete ha più ha debito con la banca centrale europea questo paradosso e questa follia che è tutt'altro che il frutto del liberismo ma è il frutto di un tipo di capitalismo folle e totalmente distaccato dalla coltivazione della libertà sulle cui fondamenta pretenderebbe di di basarsi perché è basato non è affatto basato sul liberismo perché toglie ogni libertà economica a chi a chi è sul mercato e a chi scambia i servizi perché gli toglie la libertà economica di scegliere il medium attraverso cui ovvero che tipo di moneta ad operare per le proprie transazioni dunque tutti noi più siamo per la società ricchi più in realtà nei confronti della banca centrale europea e nei confronti reali della società siamo poveri e impoveriamo noi stessi e la società tutta le monete complementari nascono localmente in tutta Europa per consentire a cittadini auto organizzati di basare le proprie transazioni sia economiche sia sociali in senso lato su monete che costituiscano un credito al portatore e che siano il frutto di una reale fiducia che viene scambiata tra coloro i quali sono all'interno della rete faccio un esempio molto diffuso in Italia in alcune decine di migliaia di utenti la moneta SCEC ovvero l'acronimo di solidarietà che cammina tale moneta in realtà costituisce tra coloro che la scambiano un reciproco sconto che si accompagna alle monete che vengono usate a livello globale nel qual caso l'euro tale moneta come sconto reciproco è riutilizzabile all'interno del circuito e dunque costituisce per il portatore un credito e non come avviene invece per l'euro un debito per se stessi e per tutta la società tali monete sono state già studiate ed anche inquisite dall'agenzia delle entrate dal ministero delle finanze e sono state già dichiarate del tutto legittime questo lo dico a chiarimento di di qualunque ipotesi e di qualunque timore che può sollevare qualcuno che tali monete possano essere considerate non di corso legale tali monete costituiscono nelle tasche del cittadino un'assicurazione sulla vita del proprio pensiero e della propria libertà poiché rappresentano la comprensione nel fenomeno della cittadinanza che la moneta costituisce un mezzo e non un fine così come l'uomo per l'economia dovrebbe rappresentare un fine e non un mezzo mi rendo conto che gran parte della politica mondiale e locale è oramai asservita totalmente alle logiche cieche a cui ormai nessun cittadino più crede alle logiche cieche della finanza internazionale che sono basate sulla menzogna della moneta a debito tuttavia attraverso questi strumenti possiamo depositare un seme di verità nelle tasche di ogni cittadino ma poiché comprendo che come mi è stato manifestato anche dalle forze di maggioranza occorre riflettere ancora su questa proposta che nella sua radicalità nel suo essere si può dire ancora di sinistra offende qualcuno no mi rendo conto che non è più di moda e quindi nel mio ringraziare sia sinceramente sia dall'intelletto sia dal cuore il presidente della commissione che con grandissima Marco Poli che con grandissima correttezza ha sempre riportato all'attenzione dei commissari tale tale proposta che tocca le tasche di tutti i cittadini ma come lui giustamente ha detto la discussione è arrivata in un momento in cui vi era il deserto politico il deserto di presenze io accolgo la proposta che nella sua onestà intellettuale il presidente della commissione mi ha rivolto implicitamente a riflettere ancora sull'opportunità di portare avanti in questa sede la risoluzione in questione dunque accetterei ed accetto la proposta di ritirare la e di riportare in commissione il documento affinché spero che abbia ancora senso che una sinistra possa riunirsi discutere intorno a queste cose discutere intorno alla moneta e non solo una sinistra perché dovrebbe essere l'interesse di qualunque cittadino e di qualunque forza politica quindi il documento se lei mi consente è inteso come ritirato grazie grazie consigliere Tutino quindi la invito a passare qui al tavolo della presidenza e firmare il ritiro dal consiglio allora quindi l'atto è ritirato non abbiamo più diciamo punti in discussione o della regione quindi il consiglio è chiuso grazie grazie a tutti grazie a tutti